calza di punizione a nostro favore Gabriele ci troviamo nel secondo tempo siamo passati in vantaggio su autorete ehi convinti su sta palla eh convinti dobbiamo dare il colpo del KO eh appunto se no soffriamo calcio di punizione c'è Michele non vorrei sbagliarmi dai guagliù dai guagliù calcio di punizione facciamo movimento reti 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 chi l'ha fatto chi l'ha fatto Don Dino ha raddoppiato il nostro capitano numero sei di Gabriele Donofrio bravo oh penso di fare oh Dio ma però mamma mia la difesa dai 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 dai